un saluto a tutti i miei studenti delle classi terze oggi affrontiamo il neoclassicismo e come ci fa vedere il sottotitolo si tratta fondamentalmente del ritorno della riscoperta del cercare ispirazione nell'arte greca romana questa è la prima di una serie di video lezioni che intendo costruire per accompagnare sia il lavoro in classe se lavoro fuori dalla classe dei miei studenti di tutte di tutti i corsi benissimo sono felice di incontrarvi anche qui in video vi saluto anche se registrata e adesso chiudo la finestra e continuerete a seguirmi ascoltando la mia voce e naturalmente la presentazione allora innanzitutto partiamo sempre da una da una mappa da un mappa concettuale qui accompagnata anche da immagini e inquadriamo cronologicamente il neoclassicismo in particolare possiamo parlare di neoclassicismo dalla seconda metà del settecento fino a sicuramente la metà dell'ottocento del 1800 quindi diciamo così che il movimento vive il suo splendore sicuramente in un arco di tempo molto lungo che dura praticamente è praticamente un secolo nasce il neoclassicismo come una reazione al barocco che si era abbandonato alla fantasia si era abbandonato alla decorazione complessità invece il neoclassicismo vuole riportare ordine a fronte del disordine barocco naturalmente fra virgolette disordine vuole riportare l'ordine vuole riportare un linguaggio unitario e ben preciso e trova risposta nella riscoperta dell'arte greca romana e quindi per esempio nell'architettura nell'utilizzo degli ordini degli ordini cioè dorico ionico e corinzi è un movimento che diciamo così non non coinvolge sulle arti figurative ma anche la letteratura con per esempio foscolo e quindi si presta anche per costruire le mappe d'esame che andrete a progettare appunto per il vostro esame di licenza media in questo periodo storico ci sono anche degli eventi che diciamo così promuovono la promuovono il neoclassicismo promuovono la l'amore per le antichità classiche ecco sono gli anni in cui si definisce e si sviluppa l'archeologia è una scienza nuova è una che va alla scoperta ovviamente dei reperti del passato e che in questi anni i suoi albori regala delle scoperte importantissime in italia negli scavi di ercolano di pompei portano alla luce i tesori che oggi sono disponibili per i turisti di tutto il mondo ecco la scoperta di pompei e di ercolano il lascito a cui portano questi scavi attira artisti da tutta europa gli artisti vengono in italia e sempre di più si si diventa l'abitudine la prassi di fare un viaggio in italia per artisti eletterati questo viaggio era il grand tour che toccava venezia firenze roma e napoli e altre zone d'italia per chi aveva anche la possibilità di farlo arrivando anche fino al meridione quindi non solo non solo per ammirare le bellezze romane e rinascimentali ma anche per ammirare le testimonianze della magna grecia quindi dell'arte greca che di cui ricca l'italia meridionale quindi il grand tour diventava un viaggio alla scoperta della classicità diventava un viaggio alla scoperta della classicità e coinvolgeva tutti gli artisti più importanti di questa epoca la germania letterati come goethe grandi artisti come quelli che andremo a vedere più avanti il neoclassicismo diventa quindi a tutti gli effetti un movimento che valorizza l'antico e che porterà anche alla consapevolezza che l'antico va protetto e tutelato questo è molto importante perché il neoclassicismo diventerà appunto un grazie al neoclassicismo si svilupperà questa sensibilità per i beni architettonici e per le antichità prima totalmente assente quindi la tutela la protezione la documentazione di tutti i beni che ci vengono dal passato un passaggio un merito molto importante del neoclassicismo facciamo un passo avanti e passiamo una rapida introduzione in cui mostriamo alcuni dei linguaggi caratteristici di questo movimento abbiamo due edifici no classici la casa bianca dove trovo la residenza dei presidenti americani vedete che a questo ingresso con un timpano e un colonnato un portico colonnato che ricorda proprio un tempio greco abbiamo l'arco di trionfo a parigi che naturalmente ha come modelli gli archi di tito di costantino a roma decisamente più grande monumentale vuole essere simbolo della grandeur francese e la sua grandezza la vedete anche delle automobili che circolano su questa rotonda è un luogo che ho visto questo l'arco di trionfo molto grande molto maestoso e rimanda appunto a classicità romana sotto invece abbiamo due quadri il primo di un pittore che si chiama hangar che raffigura napoleone nelle vesti di imperatore un quadro di david con napoleone a cavallo presentato come un eroe come un eroe animato da sbaglia di conquista invece la scultura è una scultura di nuova amore e psiche un capolavoro del neoclassicismo chiaramente ispirato alla scultura ellenistica ecco il linguaggio neoclassico entra dentro alle accademie dentro le scuole in cui si studia l'arte anche oggi quando dopo l'istituto d'arte uno studente vuole proseguire anche gli studi universitari che riguardano le arti si entra nell'accademia l'accademia diventa luogo dove il linguaggio neoclassico si sedimenta soprattutto perché promuove una certa perfezione tecnica sia nel dipingere che nello scolpire che nell'architettura ecco questo gusto per le regole e anche per la perfezione la perizia tecnica cioè la capacità di dipingere molto bene di scolpire molto bene di costruire con regole precise e forme di armonia chiara naturalmente si presta molto ad essere accolto e promosso dalle accademie di belle arti e così sarà per moltissimi moltissimi anni più di un secolo neoclassicismo diventa il linguaggio dell'accademia di belle arti e dobbiamo arrivare in Francia agli impressionisti per vedere ecco reciso questo legame e quindi passano insomma proprio più di un secolo oltre un secolo e mezzo per vedere un secolo abbondante per vedere tagliare questo ombelico questo cordone ombelicale che legava le accademie di belle arti al linguaggio neoclassico andiamo avanti e andiamo a conoscere il primo artista che studiare ed è Jacques-Louis David un pittore molto importante che cresce e raggiunge la maturità durante la rivoluzione francese a cui partecipa attivamente come Giacobino dipinge anche episodi della rivoluzione francese come questo della morte di Marat l'uccisione di Marat il quadro che vedete qui sulla destra viene ucciso mentre stava facendo il bagno da un'oppositrice di un'altra fazione girondina da una girondina, Marat viene ucciso da una girondina mentre Marat era della stessa fazione di David cioè quella dei Giacobini la pittura di David è particolarmente curata sotto l'aspetto dei chiaroscuri e della resa dei volumi quindi restituisce delle immagini molto tridimensionali molto curata tecnicamente a sinistra vedete una rappresentazione di Napoleone che attraversa le Alpi ne ha dipinte David ben quattro versioni perché è un quadro che ha avuto un grandissimo successo per cui sono state richieste più coppie piaceva moltissimo Napoleone qui raffigurato come un eroe ed ecco possiamo andare a inquadrare una delle caratteristiche del neoclassicismo l'idealizzazione ecco sappiamo che Napoleone era un uomo basso non certo prestante un uomo sì che non rispondeva nella realtà all'immagine che abbiamo di questo eroe sul cavallo ecco sicuramente un uomo più con un fisico più esile più meno monumentale mi viene da dire quasi qui sembra proprio una figura alta possente invece Napoleone sappiamo che aveva fatte essere un uomo piccolo non tanto alto idealizzazione che si richiama direttamente all'arte classica a dei modelli ideali in questo caso un Napoleone eroico ecco lo stesso Marat anche se ci viene presentato morto con una grandissima dignità no? figure eroiche figure che vanno diciamo al di là di qualsiasi rappresentazione realistica infatti quando faremo il realismo sarà chiaro che il punto di vista del realismo è totalmente diverso perché quando noi idealizziamo vogliamo che le immagini rispondano a dei canoni di un certo tipo canoni di bellezza canoni di coraggio canoni di eroismo che vediamo qui nella rappresentazione di Napoleone tant'è che dopo la fine della rivoluzione francese trascorre anche un tempo in carcere David quando esce e c'è la presa del potere da parte di Napoleone David diventa in poco tempo il pittore ufficiale di Napoleone stesso molto interessante la sua capacità di costruire la prospettiva la sua capacità di rendere i volumi soprattutto vedete ragazzi con i chiaroscuri vedete come è bravo David con le ombre è veramente un maestro tant'è che sarà un insegnante molto importante un insegnante molto importante lascerà una traccia rilevante nella storia della pittura ed è appunto l'artista di corte di Napoleone e questo dice qualcosa come già allora gli uomini di potere fossero attenti a curare la loro immagine l'artista successivo che andiamo ad esplorare è Canova Antonio Canova uno scultore come vedete italiano veneto per esattezza considerato probabilmente il re del neoclassicismo per la sua capacità artigianale di scolpire in modo perfetto come vedete da questi tre gruppi scultore il primo è amore psiche con cupido amore che si innamora ad una terrestre è un amore proibito fra un dio e una terrestre ma la passione comunque li li travolge e vediamo i nostri eroi i nostri due amanti in questo caso non sono eroi ma sono amanti che si abbracciano e Canova li fra virgolette li fotografa proprio nel momento in cui è antecedente al bacio in una posa veramente plastica questo corpo femminile bellissimo scolpito perfettamente in una posa molto difficile e si richiama direttamente all'arte greca ellenistica lo stesso lo vedete bene nelle immagini più grandi delle tre grazie dove questi corpi femminili sono letteralmente perfetti non sembra quasi marmo ragazzi sorprendente questa tecnica veramente incredibile in cui i corpi sono perfetti sembrano proprio corpi di carne sono linee morbide quelle che vengono fuori da questa pietra e veramente sorprendono anche oggi per la loro perfezione Canova rimane un maestro studiatissimo infatti anche nell'accademia oggi in basso a sinistra vedete invece Paolina Bonaparte la sorella di Napoleone che sposa un italiano è un borghese uno della famiglia borghese ecco Canova si rifiuta di lavorare per Napoleone per la famiglia per molto tempo perché Napoleone aveva spogliato aveva saccheggiato letteralmente l'Italia portando via moltissime opere d'arte ma voleva arrivare ad avere un suo busto fatto da Canova Canova si rifiuta, si rifiuta, si rifiuta chiede poi alla fine la restituzione di molte opere d'arte trafugate da Napoleone riesce a ottenere questa restituzione dopo fa alcune opere per la famiglia reale tra cui vediamo anche questa Paolina Bonaparte sdraiata un'opera anche qui sorprendente dove il divano sembra un vero divano tanto riesce a rendere le pieghe nel marmo con una maestria appunto ancora una volta mi viene da dire incredibile uno dei più grandi scultori indubbiamente di tutto l'Ottocento quindi una figura sicuramente di grandissima rilevanza ripeto studiatissimo ancora oggi prima di fare queste sculture in marmo lui costruiva dei modelli in gesso abbiamo ancora qualcuno di questi modelli che sono stati conservati la maggioranza delle sue opere sono raccolte a Venezia nel Museo Correr assolutamente rilevante l'opera di questo artista andiamo a scoprire le carte dell'ultimo dell'ultimo prode che andiamo ad analizzare parliamo di Jean-Auguste Dominique Enger un pittore diverso da David perché Enger era soprattutto specializzato nel disegno e nella ritrattistica un pittore che vince il Grand Prix del Rome quindi soggiorna lungamente in Italia studia non solo l'antichità greca e romana scusate ma studia anche i pittori del Rinascimento questo lo vediamo in particolare nel quadro in basso a sinistra vedete c'è questa donna con una pelliccia questi ritratti che faceva per la borghesia per la borghesia parigina Enger era quotatissimo come ritrattista ecco quel ritratto in basso a sinistra il primo sotto la grande odalisca è chiaramente ispirato a Raffaello nella posa nel paesaggio dietro Enger si ispira direttamente a Raffaello sopra vediamo la sua grande capacità di disegnare con questi nudi tutti profondamente idealizzati vedete questi stoffe particolarmente ricche questi ventagli di penne di pavone queste figure orientaleggianti sì con questi copricapo che volevano ispirarsi al mondo turco mondo turco per lo più fantastico ecco Enger diventa il campione dell'accademia diventa uno degli insegnanti più celebrati della sua epoca era allievo di David era allievo di David ma lo ricordiamo in particolare per questa sua capacità di disegnare mentre David sicuramente nel rendere i chiaroscuri nel lavoro sulle ombre era particolarmente adottato particolarmente ricco il suo repertorio il repertorio di David nell'andare a costruire le ombre ecco Enger diventa l'artista più celebrato uno degli artisti più celebrati del neoclassicismo soprattutto fortunato come ritrattista chiudiamo il nostro escursus nel neoclassicismo con i punti fondamentali ecco ne aggiungo subito uno prima di leggere questi il punto fondamentale che mi piace ricordare è questa sensibilità che il neoclassicismo porta verso i beni culturali i beni architettonici e l'antichità che deve essere tutelata quindi dietro inizia a svilupparsi anche l'idea del museo il museo che protegge l'arte antica la raccoglie, la cataloga, la documenta e diciamo così la salva la salva perché la salva da distruzione la salva dall'essere trafugata da finire in mani private e soprattutto quello che è molto bello tra i neoclassici circolava appunto l'idea di rendere questi reperti e la storia disponibili a molte persone e non più chiuse in ambiti privati quindi questo è molto importante e abbiamo detto esprime il rifiuto dell'arte barocca e delle irregolarità sostituite invece dalle regole e dalla semplicità con appunto per esempio in architettura agli ordini, d'Orico, Ionico, Corinzio è stato un movimento teorico appunto con il ritorno alla classicità all'idealizzazione avete visto che ho insistito molto su questo aspetto di idealizzazione che vedete anche nelle opere qui sotto la prima sinistra di David il giuramento di Orazzi chiaramente c'è questa idealizzazione uomini pieni di coraggio donne che piangono dall'altra parte queste spade di questi eroi che partono mettendo in gioco la loro vita ecco è chiaramente un'idealizzazione come lo è la scultura di Canova al centro con questo eroe che colpisce e va a colpire il centauro e lo uccide vedete questi corpi profondamente idealizzati perfetti muscolature perfette è stata una riscoperta dei valori della romanità e anche sì quindi dell'eroismo della benegazione eccetera e anche il neoclassicismo celebra gli imperatori celebra i potenti qui apriamo una parentesi è stato anche il linguaggio delle dittature il neoclassicismo del novecento cioè Hitler Mussolini nei loro edifici hanno adottato soluzioni di tipo neoclassico perché proprio si volevano ricollegare idealmente le figure degli imperatori anche se erano dei sanguinari dittatori è stato anche un movimento di gusto che ha portato anche nell'arredamento gli ordini architettonici questo linguaggio scusate è entrato anche in degli oggetti d'uso comune piccoli oggetti ornamentali aprendo le porte a quello che poi nel novecento sarebbe diventato consapevolmente il design cioè per la prima volta si cercano di produrre anche oggetti decorativi utilizzando un linguaggio neoclassico l'ultima illustrazione che vedete qui sotto a destra è uno dei tanti ritratti di Enger fatti per la borghesia francese quindi questi caratteri essenziali ecco ricordatevi oltre a questi anche il discorso sui beni culturali sui beni architettonici che è fondamentale con questo chiudo la mia lezione vi saluto e ci vediamo al prossimo argomento a presto un saluto a tutti i ragazzi delle classi terze grazie a tutti i ragazzi grazie a tutti i ragazzi